Musica Incidente questa sera, domenica 4 marzo, intorno alla 23 a Ciconio, nei pressi del cimitero comunale, sulla strada che conduce a San Giorgio Canavese. Un 19enne di Castellamonte ha perso il controllo della Fiat Punto che stava guidando, che è finita fuoristrada, rimanendo in bilico sul fosso che costeggia la carreggiata. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Rivarolo Canavese, la medicalizzata della Croce Rossa di Castellamonte e l'ambulanza della Croce Rossa di Rivarolo, nonché i carabinieri. Il giovane è stato estratto dalla vettura e subito affidato alle cure dei sanitari. Pare che abbia riportato una sospetta frattura alla clavicola. è stato trasportato all'ospedale di Ivrea. Grazie a tutti.